L'Apple Watch del 2022 subirà un grandissimo cambiamento in confronto al primo Apple Watch grazie ad alcune nuove notizie che riportano che saranno annunciati tre nuovi modelli. Quali saranno questi tre modelli e come saranno fatti? Bene, oggi voglio parlarvi di questi tre modelli di Apple Watch e le loro caratteristiche insieme alla data di rilascio e il prezzo di Apple Watch 8. Comunque, siamo arrivati a metà del 2022 e un nuovo Apple Watch sta arrivando. Quindi, tornando indietro al 2021, la Serie 7 è stato un aggiornamento molto leggero della Serie 6 per quanto riguarda il design e le capacità. Ma per la Serie 8 sembra che avremo un nuovo design e molte nuove feature. Ma non solo questo, abbiamo saputo che quest'anno avremo tre modelli. Mark Gurman, che ha recentemente predetto l'evento Peak Performance, ha affermato che nel 2022 non avremo un solo Apple Watch. Ma in realtà, quest'anno ci saranno tre diversi modelli di Apple Watch. È molto probabile che il primo Apple Watch che vedremo sarà l'Apple Watch 8 con il nuovo design che state vedendo qui nei render e questo già ce lo aspettavamo l'anno scorso per l'Apple Watch 7. Ma invece, non è mai arrivato. Quindi quest'anno siamo più fiduciosi che verrà presentato un nuovo design più in linea con iPad Pro e iPad Air e naturalmente iPhone 12 e 13. Il prossimo Apple Watch è probabile che sarà l'Apple Watch 6, proprio come con l'iPhone 6 che è appena stato aggiornato rispetto al predecessore del 2020 e quindi ci si aspetta che Apple realizzerà il prossimo Apple Watch in linea con il design dell'iPhone 6 attuale. Ma forse avrà un display più grande e potrebbe esserci anche lo luisone display e avrà quindi il chip S7 che è all'interno di Apple Watch 7. Anche l'ultimo Apple Watch avrà un nuovo design e nello specifico sarà fatto per le persone che amano fare attività all'aperto come escursionismo e ciclismo. E questo sarà un Apple Watch più rinforzato e robusto. Andiamo avanti e parliamo della data di rilascio. Negli ultimi anni Apple ha sempre annunciato l'Apple Watch insieme all'iPhone, quindi i futuri Apple Watch potrebbero uscire insieme all'iPhone 14. Quindi se quest'anno tutto è andato nel verso giusto, probabilmente vedremo l'annuncio di iPhone 14 a settembre. Ma come facciamo a saperlo? Bene, lasciatemi fare una veloce lezione di storia di rilasci di iPhone. Quindi se torniamo all'iPhone 4S, questo uscì il 14 ottobre del 2011. Poi nel 2012 l'iPhone 5 uscì il 21 settembre, quindi il 16 settembre del 2016 sono usciti l'iPhone 7 e il 7 Plus. Nel 2018 l'iPhone XS è uscito il 21 settembre e il XR il 10 ottobre. Quindi potete già immaginare per quale periodo potrebbe essere orientato l'evento di lancio di iPhone 14. Infatti a parte l'iPhone 12 che è uscito più tardi a causa del Covid, tutti gli altri iPhone sono sempre usciti per la fine di settembre. Quindi ora Apple sta pianificando un evento di annuncio per iPhone 14 e Apple Watch 8 per metà settembre. E poi questi verranno rilasciati per la fine di settembre. Andiamo avanti e facciamo riassunto delle caratteristiche e il prezzo di Apple Watch 8 basandoci sulle notizie e i leak che abbiamo adesso. Quindi è ancora molto presto per dirlo, ma ci aspettiamo che Apple Watch sarà leggermente più grande di quello attuale e avremo uno schermo da 41 e 45 mm e questo sarà uno schermo LTPO. Lo schermo avrà una luminosità di 1000 nits e come ho già detto prima l'Apple Watch avrà il nuovo design che avremo dovuto avere con la serie 7. Per lo spazio di archiviazione potremo scegliere tra i 32 e i 64 GB in modo tale da poter tenere salvata la propria musica in locale. Ci aspettiamo anche che avrà il chip S8 che sarà migliorato con fronte all'S7 e all'S6 e inoltre avrà anche il sensore U2 Ultra Wideband e il Bluetooth 6.0. E finalmente anche la connettività 5G per la prima volta su Apple Watch. Avremo anche il sensore che misurerà il glucosio di cui si è parlato per anni e in più il corpo di questo Apple Watch sarà realizzato in diversi materiali come alluminio, acciaio e titanio. Probabilmente ci sarà anche il Touch ID sul pulsante di standby sul lato proprio come è stato fatto su iPad Air e iPad Mini. E poi per la batteria questa avrà una durata fino a 18 ore e avremo anche la porta di ricarica USB-C che permetterà all'Apple Watch 8 di avere la ricarica rapida. Il prezzo di partenza per il modello con il quadrante da 41 mm e 32 GB di spazio di archiviazione sarà di 399 dollari e poi 449 dollari per il modello da 64 GB. Poi l'Apple Watch con un quadrante da 45 mm partirà dai 429 dollari per il modello da 32 GB e 479 dollari per quello da 64 GB. Ovviamente scegliendo e personalizzando le diverse opzioni il prezzo di Apple Watch subirà un cambiamento in base allo stile e ai materiali scelti. Quindi questo era il riassunto di quello che sappiamo di Apple Watch 8 in base alle notizie e informazioni che abbiamo attualmente. E se non volete perdervi gli ultimi mix e rumors a tema Apple assicuratevi di iscrivervi al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!